buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato buongiorno ciccetti allora sono uscito di casa e vedendo questa nebbia mi è venuto in mente un piccolo piccolissimo aneddoto di una mattina quando facevo l'accademia di belle arti quindi parliamo più o meno dell'anno 2007 2008 ma niente semplicemente eravamo lì in classe e c'era questa ragazza in classe con me che si carmela arrivava dalla sicilia asperando il professore guardavamo guardavamo fuori dalla finestra e c'era una nebbia tipo così come oggi allora praticamente mi ricordo che lei guardava fuori così e a un certo punto disse disse ma è pazzesca questa nebbia è pazzesca io pensavo ma cosa c'è di pazzesca questa è la normalità questa cosa ci sarebbe di tanto strano e allora quindi gliel'ho chiesto e me l'ha spiegato cioè il fatto è che lei essendo siciliana mi diceva ma in sicilia in inverno non c'è la nebbia a volte c'è un sole che stiamo medita mezza manica anche a dicembre gennaio io sconvolto non ci potevo credere adesso il clima anche qui in romagna sta cambiando tanto per esempio io tre giorni fa anche qui io ero in medita mezza manica al sole ma 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 i tempi no non era possibile siamo in inizio novembre insomma e insomma e quindi e quindi praticamente pensavo che qua ce n'è tanta qua ce n'è tanta arriva eh arriva e poi sa giù che si perde nel niente pensavo che insomma questa questa carmela era lì era era si era scavallata l'italia per arrivare e arrivare a fare l'accademia delle belle arche in ravenna quindi aveva abbandonato amici genitori chissà forse un amore e sul momento quando ci pensi quando ci pensavo è incredibile pensare che una persona può arrivare dalla sicilia per essere esattamente dove sei tu dove tu sei nato per avere a che fare con quel professore lì per fare quel percorso e studi lì infatti io gli dicevo scusami ma ma chi te l'ha fatto fare di abbandonare una un'isola meravigliosa dove si sta in maglietta mezza maniche a dicembre il clima il sole è una mia grande fissazione ma chi te l'ha fatto fare mentalità mentalità e forse un po problemi in quella famiglia che le facevano un po di pressioni e non non ci si trovava non ci si trovava troppo bene io in questo senso sono stato molto fortunato e sono fortunato perché quella mia famiglia mi sono sempre trovato bene non ho mai avuto l'esigenza di dover andare in un altro paese o dall'altra parte dell'italia lo riconosco riconosco è una delle tantissime fortune che ho avuto e tornando tornando a noi a questa nibiazza romagnola là ce n'è adesso torno indietro perché tanto in realtà non devo andare da nessuna parte spero che questo non tolga i piccità al video non da nessuna parte torno indri comunque mi ricordo anche un discorso così che avvenne sempre quel periodo lì in accademia l'accademia di belle arti quindi facevo il corso di pittura e c'era il professore il buon marco che un giorno diceva che solo noi abbiamo queste nebbie e quindi oddio o meglio io non so è probabilmente diciamo vabbè insomma è più più un fenomeno dal nord italia che non da sud ok su questo penso che siamo abbastanza d'accordo e diceva il buon marco il paesaggio che sparisce è un fenomeno pittorico di per sé ecco diceva cioè questa è già pittura avere questo svaporamento nel bianco questa cosa che altera i colori perché ovviamente la nebbia è acqua che crea un filtro sono molecole e quindi cambiano la luce cambiano tutto insomma a farla breve diceva che insomma diceva diceva il paesaggio innebbiato è tutta pittura perché otticamente cromaticamente impone una riduzione cromatica una sorta di sintesi visiva e così e così chissà come sta Carmela e tanto che non la sento è diventata una di quelle persone che incrociavo poi nel centro è rimasta la ravena un po di anni dopo e poi dopo oh dio spero che lei spero per lei che sia tornata nella calda e dolcissima sicilia isola che prima o poi spero di visitare ma qui si sta andando nel futuro in un futuro di immaginazioni invece stiamo nel presente questo voleva essere soltanto così un ecco volevo soltanto appunto registrare questo momento questo paesaggio queste ombre giapponesi e se riesco se riesco forse stasera invece esco con una recensioncina di un film mitico degli anni 70 per il momento è tutto e magari ci vediamo dopo baccetti ciccetti grazie a presto grazie a tutti